I, 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 I Che disperazione, questa conversazione, nemmeno mi piace la musica Fuori il temporale, niente da fumare, contro voglia rimango lucida E' come un pirsi che non voglio, che solo se lo scappo sono io E' solo soldi e portafoglio Una tortura, un castigo di Dio, dorme la città Entro su WhatsApp, nemmeno mi saluta, vuole una foglia avuta In fila come pericram, chiedo lo sogno in una jam Voglio raggiarmi una, non ho la foglia Mi asciuga fino all'ultima goccia La mia pelle a perdita dalla goccia La stanza si appalla, non è l'acqua calda L'abbra sulle labbra, sulle labbra Dove sono gli uomini normali, quelli che chiedono come va Quelli che non comprano i bracciali, solo per farti la carità Guardo per terra, basso gli occhiali, alzo il volume quando vi parli Note vocali la sera tardi, piano torciato bra E' come un PC che non voglio Che solo se lo strappo solo io E' solo soldi e portafoglio Una tortura, un castigo di Dio, dorme la città Entro su WhatsApp, nemmeno mi saluta Vuole una foglia avuta In fila come pericram, chiedo lo sogno in una jam Voglio raggiarmi una, non ha la fortuna E' solo la vita, l'ultima goccia L'abbra del nefero si tocca la boccia La stanza si appalla, non è l'acqua calda L'abbra sulle labbra, sulle labbra Fotoguria, sul sofà Sobre l'entro, di tabla Sulle labbra, sulle labbra Sulle labbra, sulle labbra Dorme la città, entro su WhatsApp Nemmeno mi saluta Vuole una foglia avuta In fila come pericram, chiedo lo sogno in una jam Voglio raggiarmi una, non ha la fortuna Mi ascolta viva l'ultima goccia La mia pelle a te la si fa dalla doccia La stanza si appalla, non è l'acqua calda L'abbra sulle labbra, sulle labbra A Jake Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivà Hello E benvenuti in questa nuova trasmissione E siamo qui con Jake Lafuria, benvenuto Ciao raga, come va? Bene, bene, tu? Un onore Io bene C'avevo un audio nella sigla e non sentivo un cazzo proprio Peccato perché era un omaggio a una canzone È una canzone che conosci molto bene È vero, l'ho infra ascoltata Sì sì, la conosco bene infatti Senti, allora Intanto vabbè, lo dobbiamo dire Non è una leccata di culo Ma per noi è un onore averti qui Quindi Entriamo subito a gamba tesa Ultima opera che è tirato fuori Ferro del mestiere Cosa ti spinge dopo tutto questo tempo Ancora a creare qualcosa di artistico Perché noi stessi che siamo dei pivelli Ci interroghiamo costantemente sulla creatività Insomma, cercare questa voglia Cosa è che ti spinge oltre ai soldi? I soldi, i soldi No, 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 sto scherzando No, vabbè Banalmente se fossero i soldi Insomma, potevo anche andare a mettere le palle al mare a Santo Domingo In realtà è proprio Banalmente la passione per la musica Non voglio fare quell'artista che dice Ah, vivo per la musica Il mio album, questo nuovo Sicuramente l'album migliore Però Io ho sempre ascoltato tantissima musica E continuo ad ascoltare tantissima musica Che mi ispira in praticamente tutto quello che faccio Per cui ancora non posso pensare di stare senza fare musica Per fortuna riesco ancora a fare musica A seconda del periodo in cui sono Secondo la voglia che ho di farla Per cui posso permettermi di fare un disco più rap Un disco un po' più pop Un disco più caraibico Attirandomi ovviamente l'ira di chiunque Però Però Almeno riesco ancora a fare le cose come voglio io Ecco Allora, diciamo che In questi ultimi giorni Ma in realtà se ne parla Già da un po' Ci sono varie Diatribe In questo mondo qui Un po' nuovo Non voglio chiederti nello specifico Di alcuni personaggi Però voglio sapere Queste Lotte tra personaggi Dell'hip hop Della trap Eccetera Che oltre al Mero dissing Poi sfociano anche in atti fisici Tu come le vedi? E soprattutto Ai tuoi tempi Come funzionava? C'erano un po' Di guerre Magari tra Cosiddette crew Ragazzi Cioè purtroppo E a me piace essere comunque Real Cioè nel senso Bisogna dire le cose come sono C'erano ovviamente anche ai miei tempi La verità è che ai miei tempi C'erano meno Telefonini con le videocamere Forse Questo Per cui Uscivano meno le cose Ora Non voglio entrare nel merito di Se le cose che sono successe Siano giuste e sbagliate Perché io non sono mai stato un role model E non voglio iniziare ad essere un role model Diciamo che comunque se Tutte le persone che si sono Fortemente scandalizzate Sono poi quelle che seguono Il rap e la trappa americana Dove succedono cose ben peggiori Per cui Diciamo se noi Abbiamo assorbito Forse anche in modo sbagliato Tutta la cultura che viene dall'America Ora Ci teniamo queste cose Che sono arrivate in Italia anche Relativamente tardi Rispetto al resto del mondo Soprattutto rispetto All'Europa Alla Germania Alla Francia Cioè la Germania e la Francia Succedono dei veri casini Da decenni Ora forse Sono arrivati anche qua Ma ce li abbiamo Ce li teniamo Io sinceramente Le percepisco come Non solo forzate In certi casi Ma non organiche A differenza di altre realtà Cioè mi sembra quasi che Ci sia stata una Velocizzazione Verso questi processi Anche violenti Anche dovuti Forse a quello che dicevi tu Cioè l'esposizione sui social Che ha amplificato Magari atteggiamenti Che si ricercano Per diventare noti C'è da dire C'è da dire una cosa Deve fare un discorso Un po' Forse Sociologico Non so se è proprio La mia specialità Però C'è da dire che Con il cambio Generazionale Cioè diciamo Un cambio che è iniziato Credo Dai Club Dogo Per cui mi assumo Anche una parte Di responsabilità Il rap Ha spostato Il suo bacino D'utenza Anche verso Ad altre realtà Questa cosa Ha aperto Al fatto Che della vera Gente di strada Poi Alla fine Si appassionasse Al rap Ok Per cui Queste cose Succedono Perché c'è Molta più gente C'è Meno Polite E meno Diplomatica Che Che orbita Nel mondo Del rap Ok Questa cosa Rende Rende sicuramente Il rap Più real Ma anche La situazione Più cruda E Insomma Volano gli schiaffoni Inevitabile Ecco qua Qual è stato Se vuoi raccontarcelo L'episodio Che hai vissuto In prima persona Più pesante In tal senso O uno dei tanti Che puoi raccontare Dai Beh Noi abbiamo avuto Le nostre cose Sicuramente Ma Cioè Io parto Anche dagli albori Della nostra carriera Quando Quando ancora Intorno al rap Non c'era un'industria Che ti faceva diventare ricco Che ti faceva suonare Nei locali a 5 stelle Eccetera eccetera Quando andavamo a suonare Nei locali Quelli un po' scarsi O nei centri sociali Con il pubblico wild Tutti i fatti Che ti guardavano Cioè Anche dal palco Far ammazzate Era l'ordine del giorno Arrivavano le cose addosso C'era la gente Che ti insultava Voglio dire Poi Non nascondo Che loro non erano Gli unici che erano fatti Per cui Intanto Anche noi Volavamo fuori dal palco Per cui Ne abbiamo vissute Soprattutto All'inizio La nostra carriera A centinaia di queste cose qua Ecco Io Vi dico la verità È ovvio che Arrivato All'età di mio nonno Non sono contento Di come sta andando la cosa Ma non mi meraviglio E Comunque l'accetto Cioè Fa parte Fa parte del gioco Non poteva durare per sempre Che in Italia Il rap era il genere Dei ragazzi per bene Che imitavano gli americani A un certo punto Sarebbero arrivati per forza di cose Anche i ragazzi per male Chiaro Invece per quanto riguarda Il discorso Tecnologico Tu come Stai vivendo Questa necessità Da parte di Un'industria Che appunto Come hai detto tu Da qualcosa di nicchia In Italia Poi è diventata gigantesca Si sia comunque Anche trasferita sui social Cioè tu Come li gestisci Come te li fai gestire Riesci In qualche modo A Cioè nel senso Ti ci trovi O ti infastidisce Questa necessità No allora Un po' Tutte e due le cose Di sicuro Io sono a cavallo Tra quando non c'erano E adesso che ci sono Per cui Come ogni vecchio Che si rispetti Mi devo Adeguare al mezzo Che ogni tanto è un casino Non è che mi disturbi il mezzo Mi disturba più che altro Che Fare il mio lavoro Cioè fare il musicista Ormai si è diventato Per il 30% Fare musica E per il 70% Fare una serie Di altre cazzate Che magari No? Adesso basta guardare La top 50 Perché ho la fortuna Di avere un pezzo In questo momento In top 50 Ed è un miracolo Perché nella top 50 Di adesso Ci sono praticamente Solo I pezzi Che hanno Che sono Hanno La No? L'eco forte Su TikTok O che hanno il balletto O che hanno quella roba lì Per uno che è abituato A fare musica Old school Diciamo Vecchia maniera Non si capisce bene Questa roba qua Poi bisogna farci i conti E basta Sono aperto anch'io Ti conto Ancora non l'ho usato Però Prima o poi Ricordo che anni fa Se parlava della radio Che dava molta potenza Alla musica Che girava di più E quindi molti Si lamentavano del fatto Che magari non passavano il radio Adesso secondo te Quali sono i mezzi Più importanti Per riuscire A essere più ascoltato Oltre alla bravura Ovviamente Allora Ormai è tutta una questione Matematica Diciamo così Secondo me Allora Il mezzo Assoluto indispensabile In questo momento Per spaccare con la musica È TikTok Cioè ormai Si è trasferito tutto lì I pezzi che vanno forti lì Poi diventano delle hit anche fuori Poi cambia tutto velocemente Ormai passano dieci anni In tre mesi Raga Nella musica Cioè cambiano È un ritornello essenzialmente Un ritornello Ormai È un slogan Se tu guardi Siamo passati da pezzi Che duravano cinque Quattro minuti Pezzi che avevano tre strofe Ritornelli Duravano almeno Una volta Cioè diciamo Quando io Ero all'apice No? Si diceva che Radio Friendly Era tre minuti e trenta Adesso ormai Radio Friendly Cioè Radio Friendly Media Friendly È due minuti Cioè abbiamo tagliato via Un minuto e mezzo di canzoni Quindi Ci sono una serie di canzoni Due minuti In due minuti Che cazzo vuoi dire? Ci sono un sacco di slogan E la musica è tutta Tutta così Non sto dicendo Che sia meglio Che sia peggio Sto dicendo Che è completamente cambiata Cioè O uno si adegua A quella roba lì È anche inutile fare il dinosauro Io adesso ovviamente Ho fatto un disco Fuori dal tempo Ma questo lo sapevo Per cui Non mi interessa sinceramente Con questo progetto La classifica La top 50 TikTok Questa roba qua Volevo fare un disco Completamente rap Tra l'altro Ho fatto uscire a giugno È come tirarsi una martellata Nei coglioni da solo Però Lo sapevo Lo sapevo L'ho fatto L'ho fatto proprio così Deliberatamente Però se si vuole spaccare davvero Adesso bisogna stare attenti A quelle cose lì Pezzo corto Ritornello slogan Una roba che piaccia a tutti Su cui si può fare un balletto O un TikTok Che poi Riprendono tutti E quando quella roba Parte su TikTok Di solito Parte anche nel resto dei media E secondo te Qual è il giusto compromesso Che deve seguire Un qualsiasi artista Se vuole sia portare avanti La sua musica Però sia riuscire A sfondare Eh raga Ma ormai è impossibile Avere la formula Perché una volta Facevi la hit Dicevi Cazzo Hai fatto la hit Faceva una tavolina Le hit Quando l'avevi fatta Rissicuro Adesso non c'è più Una formula di niente Il giusto compromesso Secondo me È esattamente Quello che abbiamo letto Fino adesso C'è riuscire a fare Della musica Che sia degna Per se stesso E che abbia Quella formula matematica Per cui possa esplodere Sui mezzi di promozione Della musica Ma anche lì Siccome passano tre mesi Cioè dieci anni In tre mesi Io La musica è completamente cambiata Dal momento in cui Io ho iniziato a registrare Questo disco A quando è finito Per cui Eh Non lo so Non lo so È anche vero Che la musica Sta cambiando Anche grazie alle nuove leve Che questa formula Canzone nuova Cioè loro Magari la fanno Più spontaneamente E poi magari Chi fa la musica Da più tempo Ha una scelta O Cerco di copiare O di prendere Quella formula E quindi fare la hit Ma non sarei me stesso O me ne sbatto E quindi faccio L'arte A un certo punto A un certo punto I musicisti Della mia generazione Comunque Stanno anche un po' Ai margini Di quella roba lì Cioè si Si rassegnano Come posso dire A Allora Partiamo dal presupposto Che non è Che se i dischi Non sono in top 50 Non esistono musicalmente Ok Non esistono Per l'algoritmo Di Spotify Poi per il resto Comunque sono sempre dischi Che sono ascoltati Di gruppi Che E di gruppi E di artisti Che hanno seguito live Cioè La musica esiste comunque Diciamo che la musica Di grande successo È quella lì Quella della top 50 Diciamo quella della top 200 Ecco Per cui Sicuramente È cambiato tutto E i nuovi artisti Nascono già Con quella cosa lì Ecco È per me Che mi sembra impossibile Farmi seguire Tutto il giorno Da uno che mi riprende Per mettere le storie Su Instagram E poi in realtà Gli artisti Che nuovi I ventenni di adesso Hanno già un team di gente Che fa solo quello Li segue Perché ormai La vita dell'artista Diciamo in generale Perché l'artista Non è mai più Ne è meno solo musicista È un po' tutto È artista È tiktoker È youtuber Sa usare tutti i mezzi Fa le dirette su Twitch È bisogna saper far tutto Ok Non è più solamente Faccio musica Allora sono un artista No Ormai è Faccio musica Mi mostro Faccio vedere quello che faccio Sto sempre in contatto Con i miei fan No Cioè questa roba Comunque di Instagram La musica deve funzionare Sui social Anche l'artista Se funziona sui social Ancora meglio È un influencer Perché poi I social sono una finestra Sul mondo dell'artista Il pubblico ovviamente Curioso Qualche anno fa Amici No I talent Facevano Tutto l'indotto Della musica Da soli Praticamente Ma perché Era una macchina perfetta Cioè loro Creavano il personaggio E lo riprendevano Tutto il giorno E lo mandavano Sulle televisioni Per cui Era una specie di Instagram Quello Era una specie di Instagram Ante Instagram Ok Ora Instagram Fa quella cosa lì Senza bisogno di andare ad amici Cioè chi ti vuole vedere Accende Ti vede tutto il giorno Vero Poi Vabbè c'è stato X Factor Diciamo che forse Chi tiene ancora botta È Sanremo Nel senso che I pezzi che escono lì Poi effettivamente Vengono ascoltati un sacco E quello che succedeva Su Instagram Dici bene Si poteva creare un personaggio Secondo me adesso Effettivamente Come abbiamo detto Fino adesso Funziona più su TikTok Nel senso che È difficile anche Crescere ormai Spontaneamente Su Instagram Perché poi Ogni social network Che arriva E spacca Più di quello precedente Perché è ancora più semplice Di quello precedente Gli Instagram Già è più complicato Lì è tutto Un minuto 30 secondi Balletto Canzone Ritornello Ripeto Tutti fanno la stessa cosa E opla E via che hai fatto il tormentone No Instagram è già più Più complicato Più macchinoso C'è una domanda Molto importante Dalla chat Con i tanto noi Se lezioniamo Tu scrivi ogni giorno Cazzo A parte che questa Raba di Questa polemica Di Di Kele Io me la sono persa Perché ho guardato L'intervista Ma non attentamente Comunque La so di rimbalto Comunque no Io non scrivo ogni giorno Quindi non sono Un vero artista Non credo Quanto dicono Comunque La cosa Che più A me spaventa Soprattutto Diciamo Per Il vostro settore Abbiamo anche Simone Che è un musicista Qui È proprio quello Che accennavi Cioè La Cioè La La velocità La velocità Di fruizione Ad esempio Anche il disco precedente Tuo Che comunque Era Quello con Amy Schill Anche quello Non Un disco Diciamo Mutaiolo Buttiamolo Lì c'era Rap diciamo Quasi classico Anche quello Vabbè lì siete stati Anche sfortunati Perché c'è stata Quarantena di mezzo Essenzialmente Avete quasi Buttato un disco Però è drammatico In realtà no In realtà no Perché lì Ci è andata Molto di culo Invece Ok Il disco è uscito In piena pandemia Ma È uscito Nel momento In cui ci avevano Liberato un attimo E siamo riuscito E siamo riusciti a fare Tutti in store Dopo ci hanno Richiuso di nuovo E nel momento In cui avevamo I concerti Che noi Abbiamo scelto Di non rinviare Abbiamo detto Oh Se va va Se non va Vaffanculo In realtà In realtà Solo con lo slot Lì Siamo riusciti a fare Tutte le date Con la capienza Al cento per cento Per cui Pensavo invece Che la parte Pensavo la parte Dei concerti L'aveste saltata Invece Ok Siamo riusciti a fare Tutto E non solo Il disco Ha fatto doppio disco Di platino Per cui Con quel disco lì Quello disco lì È stato proprio Una botta di culo In realtà Quindi quella è verità Ok No scontosi Pensavo che Aveste avuto invece Dei problemi nei live Però ok C'è stato quindi Lo spot No no Ce l'abbiamo fatto Solo quello Credo noi siamo stati I primi E adesso non voglio Dire una cazzata Ma penso Dopo di noi Forse due altri artisti Poi hanno richiuso Di nuovo tutto Eh sì Infatti è stato un po' A cavallo Però appunto Volevo dire Cioè la velocità Di frizione è impressionante Nel senso che Non so Sarà anche Quello che dicevamo Cioè l'abituare Anche il pubblico A contenuti Estremamente veloci Quindi scrolli Vedi pochi secondi La soglia d'attenzione Che si abbassa Però c'è tantissima Massa critica Tantissima musica E viene Vissuta poco No Eh Vabbè ma questi Non saranno cazzi Di questi nuovi artisti Nel senso Noi ormai Cioè abbiamo un pubblico Nostro Siamo qua da Da mille anni Per fortuna Siamo ancora qua E quindi Insomma ci preoccupiamo Meno di sta roba qua Il vero dramma È per questi ragazzi Giovani che Non dico tutti Diciamo per ogni Allora Qui il vero problema È che il filone Dominante Cambia di anno in anno Ok Prima c'era la trap Adesso non fa in tempo A spaccare con la trap È arrivata la drill Adesso tutti fanno la drill Fra un po' Arriverà un'altra roba E quelli che fanno la drill Già sono invecchiati Per cui diciamo Che per ogni genere Secondo me Per dire Nella trap C'è Sfera Sfera ha superato Abbondantemente Anche un po' Il calo della trap Perché lui è il trendsetter Di quella generazione lì Quindi lui Sarà crossover Negli altri generi Ormai un artista pop A tutti gli effetti Per cui Sopravviverà sicuramente Al cambio Poi c'è stato Adesso c'è la drill Ci saranno i trendsetter Della drill Che sopravviveranno Tutti gli altri Moriranno in un anno Secondo me Tipo il neomelodico Non morirà mai Cioè sarebbe La miglior scelta Imprenditoriale Fare neomelodico Perché Certo Anche perché Il neomelodico Poi va a crossover Negli altri generi C'è il neomelodico Dance Il neomelodico Trap Ormai c'è tutto Eh sì Mò c'è Nico Pandetto Che è vero Hanno fatto tutto Nico Pandetto Raga È un mito vero Cioè Fa quella roba lì È stato lui Il primo a farla E fa Dei risultati Impressionanti Con quella roba Per cui Beh ma questo È lo spirito Di adattamento Ormai il neomelodico È un genere Talmente consolidato Che esattamente Come il rap Ha diversi Finoni Cioè esistono Diversi finoni Di neomelodici Sì Sottogeneri Sì 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 Certo certo Beh ma Dio Benedica il neomelodico Sì sì Vabbè Noi siamo super fan Tra l'altro Quindi Vabbè A me lo dici Anche io pure Tra l'altro Pensavo anche a Questa capacità Di reinventarsi Che accennavi prima In quest'ultimo disco Ad esempio Qual era il tuo obiettivo Perché prima hai detto Ho fatto un disco Volutamente non commerciale No? E presumo anche il precedente Cioè tu Quando è che ti senti soddisfatto? Beh allora Ma che stai a Con 17 Con 17 Mi sono sentito Molto soddisfatto Nel senso che L'intento mio E di Emi Era fare un disco Che stupisse Io ci siamo trovati In studio Era l'idea Di fare un disco C'era da tanto tempo Ci siamo trovati E mi hanno detto Ok la gente Probabilmente In questo momento Da noi si aspetta Che facciamo un disco pop E quindi Facciamo un disco rap Ovvertiamo la spesa Esatto Abbiamo fatto un disco Tutto rap Questa roba ci ha pagato Ora Io credo Che il mio pubblico Aspettasse da tanto tempo Un disco rap Con i controcoglioni Per cui Io venivo da 17 Perché mi aveva fatto Riappassionare Fortemente A un certo tipo di rap Per cui sono andato Naturalmente in studio A fare quello che mi veniva E piano piano Ho preso corpo Questo disco Per cui ti dico Io davvero Non ho Cioè Non ho degli obiettivi Direi che mi piacerebbe Che Che fosse un disco Riconosciuto Un bel disco Dal mio pubblico E che faccia Quel minimo Quel minimo Di successo Da 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 Poterlo ritenere Un gran bel disco Tutto qua Quando parli di mio pubblico Come lo definiresti? Diciamo Un mix tra Affezionati Il mio pubblico È un misto fra Anche quelli che vede Essendo un cazzaro Ho fatto diverse cose Nella mia vita artistica Per cui Il mio pubblico Si divide tra Gente Pubblico generalista E belle fighe Che seguono Il mio periodo Latin E poi Duri e puri Dell'hip hop E talebani Del rap Che Appena esco Da quel senciato lì Mi vogliono tagliare Per cui è un po' un casino Accontentare tutti Da una parte e dall'altra Mi prendo sempre degli insulti Per cui Insomma Il mio pubblico È questo bacino Questo strano E Disomogeneo Bacino d'utenza Però non mi sembra Tu L'abbia mai vissuta male O almeno è quello che Appare Nel senso che Hai sempre fatto No Indipendentemente Dalle shitstorm O dagli elogi Sì Sì Perché Comunque Faremo Cioè Uno che fa musica Ha la fortuna Di fare musica Per vivere Secondo me Non ha il diritto Di farsi Fermare E rompere i coglioni Da Da queste cose Cioè Stai facendo il lavoro Più bello del mondo Devi pensare a fare musica E basta Poi Il pubblico Il pubblico Te lo gestisci In un secondo momento Non so come spiegare Perché se Non puoi neanche diventare Schiavo del pubblico Se no Alla fine Non ti diverti più A fare musica Poi soprattutto Resta da quando Ci sono i social Che hanno dato libertà Di parole E di lamentela A chiunque Io non credo nemmeno Che leggere I commenti Sotto la pagina Instagram Dell'artista Sia rappresentativo Della realtà Della situazione Non so come spiegare Forse Bisogna fare una media No? Quando uno esce di casa E quando uno apre Instagram Forse Dovremmo scolpirlo Sulla pietra Tutta questa frase E metterla di bordo Sì 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 Spararcela Anche noi Perché noi ci soffriamo Spesso Magari Che la cia Tutti ci soffrono Ovviamente Io il vero motivo Per cui non mostro mai La mia famiglia Sui social Adesso ve lo dico Perché io Per ogni cosa Ho vissuto un momento Critico Io Una volta Per caso Ho seguito La polemica Che Belen Rodriguez Spostava sempre Suo figlio Sui social Santiago Che tra l'altro È un gran bel bambino E la gente Continua a scrivergli Che brutto tuo figlio Di qua di là Di su di giù Ok Ecco allora Cioè se io metto Un video con mio figlio Uno mi scrive Che brutto tuo figlio Ma io Ti taglio la lingua Te la ficco nel culo Capito quello che voglio dire Cioè non è Ecco Per cui Siccome tutti Ci rimangono male In realtà Eh bisogna Bisogna un attimo Capire che Che effettivamente Quella roba lì Non è Non rappresenta La realtà Di come la gente Ti apprezza È una media Di tutta la disumanità Che c'è in giro È ovvio che se uno Gli dai la libertà Di andare in un post E dire tutto quello Che cazzo vuole Io non so Forse voi siete troppo giornali Non so se vi ricordate Radio Radicale Cioè a un certo punto Della loro carriera Avevano avuto Un'idea geniale Cioè di notte Lasciavano la segreteria Accesa E la mandavano In diretta Minchia la gente Diceva delle cose Disumane Capito Chiamavano solo Per bestemmiare E per insultarsi Tra etnie Tra paesi Per cui è così Se tu dai alla gente La libertà di sfogarsi La gente si sfogherà Nel peggiore dei modi Per cui È ovvio che Su cento vaffanculo Quelli sono lì Perché si divertono Nica perché Se poi gli incontri Per la strada Magari ti abbracciano Capito? No ma infatti Questo è interessante Giustamente È una realtà O fittizia O comunque distorta Però Per chi vive Tanto sui social Come noi Ad esempio Però Tu quindi Al di là di questa media Di cui parli Quindi tra commenti E persone Che becchi in giro Anche se Tendenzialmente È difficile A meno che non sei Un personaggio super iterato Che in giro Ti prendano a parole Spesso fanno Molto i paraculi Magari lo stesso Che ti fa il commento Poi te lecca al culo Non è che ti chieda una foto Assolutamente Però come fai Diciamo Come riesci a Valutare La tua presenza Nel mondo Inteso come tua figura pubblica Cercando di comprendere Che questa Dei social È soltanto una porzione Di realtà Perché per noi Spesso ad esempio È difficile Io te lo chiedo Proprio come consiglio Io Diciamo La valutazione Di me Come personaggio pubblico La faccio Fuori Tra la gente Ok E io Sinceramente Come personaggio pubblico Mi sento Molto amato Nel senso che Io non ho mai Avuto Problemi Vado in giro Tranquillamente Mi fermano tutti Soprattutto la gente Della strada Per gente della strada Intendo No I criminali Intendo la gente Che vive sulla strada Furgonari Panettieri Benzinai Capito Io sono l'idolo Di quella fascia lì E a me fa Io sono lusingato Di questa cosa Figurati Io Mi prendono tutti per il culo Quando vengono in giro Con me a Milano Perché mi chiamano il sindaco Perché a me Mi fermano tutti Mi fermano Mi raccontano i cazzi loro Mi abbracciano Mi suonano Si fermano a fare le foto Io nella media Cerco di dare retta a tutti Per cui sicuramente Da quella parte lì Io non mi posso lamentare Cioè mi sono sempre sentito Ben voluto E mi sento ancora Molto ben voluto Cioè da dire che io faccio Io faccio anche tanta televisione Spazzatura Per cui Faccio tutti quei programmi Che intrattengono la gente I programmi di musica I programmi di cucina Cioè sono paponato Senza vergogna Per cui Sono molto forte Sul nazional popolare Quando esco di casa Sulla parte musicale Ovviamente La La vivo Per quello che Per quello che Che leggo sui social Per quello che vedo dal vivo Eccetera eccetera Con alti e bassi Però Comunque Voglio dire Per essere ancora Qua alla mia età Ed essere ancora così amato Direi che tutto sommato Il bilancio è positivo C'è anche da dire una cosa Riguardo agli insulti Eccetera Il pezzo più Diciamo Con cui ho fatto più successo Di tutta la mia carriera Che probabilmente È il party È anche stato quello Con cui ho ricevuto La maggior parte Degli insulti Della mia carriera Per cui Lì come fai a capire Cioè ho fatto Cinque dischi di platino Però sono stato insultato Da tutti Allora lì Oh Ti capito? Boh Com'è la verità? Vabbè fai una media Cento e meno cento Arrivi Sì sì Benino Ecco Mi ha risposto Siri Cento e meno cento Fa zero Grazie Siri Io voglio farti una domanda In quanto Grande scrittore Cosa hai raccontato All'interno di Questo album Allora All'interno di questo album Ho raccontato Poco e niente Ma l'ho raccontato Molto bene Nel senso Un album molto street Perché Ho frequentato Un sacco Di musicisti Di show business Nella mia vita E mi ha sempre fatto Cagare E sono tornato A riabbracciare Gli amici miei Quelli proprio terribili Adesso Sono tornato Da dove venivo Per cui Ho scelto di raccontare Quella cosa lì Ormai Ovviamente Da signore borghese Doppio padre di famiglia Per cui Ho raccontato Molto più da fuori Che da dentro Però In tutti i miei dischi Sono stato sempre più bravo A raccontare la parte dark La parte un po' più presa a mare Delle cose A me piace molto di più La musica triste Della musica allegra Sempre mi è piaciuta Molto più La musica dark Della musica solare Per cui Questo qui è un disco dark Rap Molto dark E ho raccontato Un po' il rap Un po' il mio ritorno al rap Un po' il mio ritorno alla strada In questo modo qua A me è piaciuto molto Poi una cosa che ho notato Ma questo solo per i miei gusti personali Guardando su Spotify Che magari i miei gusti Non erano paralleli Diciamo alle visual Invece tu come la vivi Sui tuoi stessi brani Vabbè Eccezione fatta Per il pezzo 7 L'amore e la violenza E' quello là per dire E' molto figo Pure se è quello che ascolti Eh sì Quello Quello sì Ma Allora Io Questo disco qua Ci ho lavorato parecchio Ho lasciato fuori parecchia roba Perché questo disco E' uno di due Quindi adesso sono già in studio A fare la seconda parte Ok Dove metto a posto Delle cose che ho lasciato fuori Da questo E altre cose nuove Per cui Per la prima volta Beh Ha 11 pezzi intanto Quello ne ha 20 Quindi Diciamo la selezione È stata fatta proprio Tirando via tutto Quindi Mi sono trovato Per la prima volta Nella mia carriera Ad avere un disco In cui Non ho nessun pezzo Che ascoltandolo dopo Dico Cazzo Col senno di poi Non l'avrei messo Quindi già questo Per me Che non sono mai contento Poi dopo Quando escono i dischi Dovete capire Che per un musicista Di solito Sentire i suoi dischi È una rottura di coglioni Perché li hai fatti Li hai sentiti 100 volte Li hai mixati Li hai masterizzati Cioè quando ti fanno Risentire Vomiti Ok Spesso magari passa Anche molto tempo Tra Il partorire Un'idea E quando la risenti Nelle radio Quindi tu Magari già la buttata fuori E sei già soddisfatto Sì sì assolutamente Quindi risentirla Poco Però Anch'io Proprio perché Mi piacciono Queste cose Un po' epiche Un po' dark Un po' eccetera Ogni tanto dico Cazzo questo qua Sarà il pezzo più bello Del disco Invece no Poi magari ci sono Delle becerate Che vanno molto di più Quello è in classico Quando faranno Spotify per quarantenni Magari ne azzecco tutti Invece Discorso live Con i fatti Santissimi Sì 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 Che consiglio daresti Qual è Diciamo Il consiglio principe Per fare Un buon live Anche per gestire L'ansia da prestazione Magari Per coinvolgere Di più il pubblico Allora L'ansia da prestazione Raga Non vi posso dare Questo consiglio Perché io Continuo ad avere La sofferenza Della dimensione Con certo live Cioè A me ancora Adesso Non parliamo La vita del rapper Si divide in due parti Concerto live E DJ set In discoteca Allora DJ set in discoteca Grande banco Matt Vai Suoni mezz'ora Fai tutte le hit Bevi Se sei furbo Scopi E vai a casa Con un sacco di soldi Questo è Invece È molto diversa Dimensione live Dimensione live Deve appassionare Perché se no La gente non tornerà Quindi deve essere fatta Una scaletta Buona Bisogna tenere il palco Per tanto Sicuramente Più di un'ora Almeno un'ora e mezza Che sembra Una cazzata Ma invece Per cui sicuramente Un live Va costruito bene Vanno pensate bene Va pensata bene La scaletta Con tutti i pezzi Che possono spaccare Di più Cercare di fare Una scaletta Un po' dinamica Non dei pezzi Che per mezz'ora C'è un vuoto Di pezzi tristi E lenti Che la gente Si suicida Per cui Questo E poi Bisogna coltivare L'attività live Tanto tempo Perché io Diciamo che La mia attività live Si sta un po' consolidando Adesso Io ho fatto la cazzata Che è uscito dal gruppo Non ho pensato Costruirmi una vera Diciamo Una vera carriera live Da solo Per cui Con il mio primo disco Cazzo Partiamo con un tour Organizzato In dei posti Giganti Che partiva 15 giorni dopo L'uscita del disco Con il fatto Che avevo venduto Un cazzo di biglietti Alla fine ho dovuto Annullare le date Lì l'ho preso La bastonata E piano piano Adesso Avemo ricostruito Un po' Adesso con questo disco Probabilmente Con la dovuta cautela Ripartiremo a fare Dell'attività live Fatta bene Quindi il consiglio Che do anche Fate uscire il disco Lasciate ormai Almeno 6-7 mesi Di tempo Alla gente Per impararlo Per comprarlo E per gustarselo E quando è il momento Uscite con Un bel tour live Anche per non fare Per evitare Diciamo Figure di merda Cantate voi ragazzi Microfono Il vuoto No Ormai Ormai quella cosa lì È praticamente impossibile Ormai con Spotify Comunque il disco esce Chi se lo vuole ascoltare Se lo ascolta subito I ragazzi si ascoltano Ma lo faccio pure io Se ascoltano lo stesso pezzo 50 volte Capito Se uno è smart Ascolta tanta musica Poi i pezzi li Io saprò a memoria 30.000 pezzi Non miei Di tutti gli artisti Che ascolta Pure di ascoltarti Li impari subito Quindi quello lì Quel rischio lì Fortunatamente non c'è più Però adesso Questi anni Secondo me Tutto quest'anno Sarà duro Perché siamo stati Due anni a casa E adesso c'è da recuperare tutto Perché ci sono i concerti in fila Tutti che vogliono suonare E comunque la gente Non è che può andare A tutti i concerti Per cui qualcuno Dal culo L'ha da pigliare Come si suol dire Sì infatti Stanno spuntando Anche un po' di problemi Di alcuni Magari biglietti presi Boh due anni fa Adesso la gente Magari non vuole più andare Al concerto È successo con Ulti Sì Anche drammatico E beh quello forse È anche semplificativo Del discorso Legato alla moda Cioè due anni fa Andava bene Adesso non va più bene È diventato una merda Può succedere di tutto In due anni Cioè la cosa più onesta Da parte delle società Di concerti Sarebbe stata Rifondere i soldi Eh sì E tirare i biglietti È che però Anche loro erano fermi I soldi in mano Ce li avevano Probabilmente Li hanno utilizzati Per pagare i dipendenti O per fare il fatturato Io questo non lo so Tenendoli buoni Però in due anni Una persona succede di tutto Io in due anni Ho fatto due figli Per cui In due anni e mezzo Per cui non voglio dire Magari uno Che ne so Non c'ha più voglia Ha cambiato gusti Si è sposato Ha fatto un figlio È morto Tutto può succedere Capito È troppo tempo È troppo tempo Rinviare un concerto Due anni Con lo stesso biglietto Se uno si lamenta Non ci vuole più andare Dal mio punto di vista Ragione Secondo te Quali sono I più grandi danni Che fa Questa velocità Con la quale Si evolve la musica E di conseguenza Passa di moda L'artista E parlo Verso L'artista stesso Sia da un punto di vista Di quando fa successo Che magari dice Ho poco tempo Che ne so Pressioni Sia da Che ne so Qualche altro punto di vista Secondo me Il più grande danno Che fa All'artista È il fatto Di non dare tempo A nessuno Di farsi una fanbase Perché Perché abitua L'ascoltatore Che ormai La musica È un talent gigante È una stagione Di amici Finita la stagione Arriva l'altro Ok Per cui Il pubblico Abituandosi così Ovviamente Non si fidelizza E se il pubblico Non si fidelizza Tu voglia fare dischi Ma se dopo Arriva un altro Che fa tanto quanto te Vanno tutti Ascoltare l'altro Tu Hai finito Capito Quindi sicuramente Questo C'è la musica fast food E così Però succede Con tutte le cose Che diventano facili Di facile fruibilità No Va sempre A danneggiare L'industria È così E ovvio Sui vari epigoni Dei big Cioè i trendset Rimangono poi I vari epigoni Magari Diciamo Portati Avanti Da quell'onda Sì Fanno tanti ascolti Però Non fidelizzano Un cazzo Certo No Per cui Vanno avanti Una stagione Poi quando arriva un altro Cioè Questi ascoltatori Annuali Chiamiamoli No Via Avanti un'altra stagione Di spotify Riparte l'anno E ci sono gli altri Dove La domanda che c'entra In cazzo Come è nata La tua passione Per i serpenti Eh la mia passione Per i serpenti È nata Non lo so Casualmente Sai come quello Gli piacciono i cani Gli piacciono i cavalli Però io ho avuto il coraggio A un certo punto Di uscire Da ragazzino E dire Mamma vado a comprarmi Un serpente Mia madre Se torni col serpente T'ammazzo Te ne vai fuori di casa E ci sono tornato allo stesso Per cui ovviamente Mia mamma non mi ha cacciato E ha dato poi anche il nome A serpente Eccetera eccetera Per cui Per cui Sono appassionato Alla faccenda Ho avuto sempre più serpenti Ma riesci ad avere Una connessione empatica Col serpente Perché Magari con altri animali È più facile No Assolutamente No assolutamente Zero proprio Serpente Diciamo che secondo me Il serpente Si abitua All'odore Alla presenza Della persona Ok Però Che dire che proprio Il serpente empatizza Direi manco un po' Cioè il serpente Sta lì E se tu gli dai da mangiare E c'è odore di mangiare Nella stanza Ti mangia pure a te Per cui non è che Hai capito? Poi i serpenti Non ci vedono Vedono solo le ombre Diciamo Si basano sull'odore E su queste robe qua Comunque Se vuoi un animale Che empatizzi Non scegliere Un serpente Perché il serpente Non empatizza Per non parlare Serpenti velenosi Che ormai Non si possono più tenere Ma quello Oltre a non empatizzare Ogni volta che passi Cerca di ammazzarti Per cui E anche c'è uno step in più Esatto È tipo un videogioco Non ti importa Che entri in camera Devi tentare di non perire Era un mio carattore Contrappoletto E morto Che era un grande Diciamo Era uno dei più grandi Posso dire collezionisti Forse Ma allevatori Neanche Comunque Era quello che aveva Uno dei più Quelli che aveva più serpenti Velenosi in Italia Che diceva sempre Che avere un serpente Velenoso in casa È come avere una pistola Carica appoggiata Al tavolo E ogni volta che passi Cerca di spararti Questo Era La cosa Perché sono Animali Inaddomesticabili Con l'istinto Di difendersi Capito Per cui Si sentono minacciati Mozzicano Ma com'è morto Per curiosità Eh no È morto di Cancro Non è stato morto Non è stato morto Però aveva Gli mancavano un sacco di dita Gli mancavano un sacco di dita Perché era stato morso Parecchie volte Ah greve Te si atrofizzano Te si Eh sì No ma non cancrono La punta Le polongie Sbagliano Effettivamente Il look di Marco Sembra un po' Da allevatore Di serpenti Sto un pochetto Australia Allevatore di serpenti Allevatore di serpenti americani Sono diventate Le celebrità incredibili Eh sì Sì Sanno delle pagine YouTube Devastanti E più Tanto più rischiano la vita Tanto più la gente Se le guardava È vero Anche perché c'è stato Il filone Diciamo Di Tiger King Quindi adesso vedo molti Wannabe Tiger King Con altri animali Sì 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 Tornando a parlare di arte No io vorrei farti una domanda Molto importante Sì sì dimmi No dico Tornando a parlare di arte Vorrei farti una domanda Molto importante A quante ragazze Gli hai detto Te faccio vedere serpentone Eh prima che Prima che si andasse in galera Per una roba del genere Tante volte Adesso Adesso non si può più No vabbè In effetti c'è stato Adesso rientra nella molestia Credo no Perlomeno nel catcalling Però c'è sempre la scusa Capito Che tu effettivamente Hai dei serpenti in casa Quindi La classica Capito Esatto È tipo la collezione Di farfalle Vieni a casa mia Che ti faccio vedere Il mio serpentone E dice sei un porco E poi gli dici Guarda Sarebbe fantastico E poi ti abbassi i pantaloni No e poi E poi secondo me A sfregio Manco io lo dai Capito Non ce l'ho vede Ma guarda questo L'hai visto L'hai visto L'hai visto Esatto No ma lei ti dice Oh scusa E tu dici scusa un cazzo Vabbè Oddio Ah beh sì Ovviamente io qui Vorrei far vedere L'unico vero disco Di musica italiana Che resterà nel tempo Ovvero Metal Carter Disco incredibile Come è che si chiama Il disco Davide Musica per vincenti L'ho beccato l'altro giorno Alla Pam Top Alla Cassa Lui non mi ha visto No no Alla Pam Vabbè Farà la spesa pure Metal Carter Anche se è un essere Mitologico Lo conosco da tanti anni Metal Carter Vabbè Un mito assoluto 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 E come lui Cicoria pure Sì 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 Che esiste una cifra di musica Che non sapevi neanche Che esistesse Per cui Adesso ascolto Delle cose incredibili Tipo Ambiente elettronica Un sacco di country Un sacco di artisti Che non hanno un follower E che fanno della musica bellissima E poi mi piace un sacco La funzione radio dal brano Per cui tu Ascolti una roba che ti piace E lui ti compila una playlist Più o meno su quel genere lì Comunque davvero Mi vergogno un po' Ma la roba che sto ascoltando di più In questo momento È ambiente elettronica Perché il rap Mi ha rotto il cazzo Raga dai Diciamoci la verità Cioè non è che il pizzaiolo Quando va a casa Puoi mangiare la pizza Quindi ascolti musica senza testo Quindi quasi il colmo Potrebbe essere Sì Per la maggior parte sì Per la maggior parte sì Ascolto un sacco di musica elettronica Non per forza dance Però un sacco di musica elettronica Ma Guarda Mi ce li fai riflettere tu Perché io non ci avevo pensato Ma Effettivamente ascolto quasi Tutta musica senza parole Però mi sembra normale Dai raga Faccio musica tutti i giorni Dopo un po' Non posso più Si sta infatti Sì beh Chiaro Anche perché poi Non so però Nonostante questo Riesci a fare della tua musica Che non ti saturi Alla fine Cioè Forse è questo Per non saturarti Devi evitare di ascoltarla troppo Oltre quella che fai Sì però Dico la verità Io Sono arrivato a quel gap generazionale Per cui Stento a capire A farmi piacere I generi Di rap moderno Per cui Già la trap Mi piaceva Abbastanza Cioè Mi piaceva meno Del rap golden age Alcune cose drill Mi piacciono Ma altre proprio Non mi piacciono Ma più che altro Il vero problema È che hanno un suono Che secondo me È abbastanza monotono Cioè Se uno ascolta una playlist Di drill o di trap Il risultato Purtroppo Almeno per un ascoltatore come me È che risulti Cento volte più o meno Lo stesso pezzo Per cui alla fine Poi mi annoia È ovvio Quando uno fa musica Si fa influenzare Anche da quello che ascolta Io non riesco A ascoltare ste robe E poi fare musica Per cui Il mio ascoltare rap Si ridurrebbe Poi alla fine Ascoltare sempre Quei dischi Golden Age Che ho ascoltato Centoquaranta Milioni di volte Che si li ascolto Ma che poi me li ascolto Tutti i giorni Ok Certo Comunque Vai con l'ambiente No no Infatti Era questo Il discorso interessante Secondo me Perché effettivamente Anche in altre interviste Che ho sentito C'era questo discorso Non so Forse di un Rinnovato amore Col disco precedente Dell'hip hop Cioè Ti era un po' passata Forse Questa voglia Devo dire che Io ho avuto Ho avuto un momento Proprio che non ne potevo più Ma questo C'era un discorso Legato Cioè un discorso Tecnico musicale Un discorso legato All'ambiente Che si era venuto a creare Io innanzitutto Sono uno che deve Sempre fare una roba nuova Se no poi dopo Dopo un po' stagno Mi rompo le palle No Però In quel periodo lì Avevo fatto un disco Che si era spostato molto Che era fuori da qui Che si era spostato molto Da quello che facevo prima Molto dal mio precedente disco Solista A me piace dire Che non è stato capito Magari faceva pure cagare Per cui Diciamo che non ha avuto I risultati Che io speravo Per cui Già lì ho detto Ecco Non mi ero Mi ero un attimo Disamorato Però dentro questo disco C'era un pezzo Comunque Io la passione Devo dire la verità Per il reggaeton Prima ora Ce l'ho sempre avuta Quando era un po' più tamarro Di adesso Quando era proprio rap Rap latino Sulle basi Sulle basi reggaeton Prima i Dead Yankee Quelle robe lì Io li ascolto da sempre Prima che diventasse European reggaeton Queste canzonette Che si fanno adesso Ok Per cui C'era un pezzo Che avevo fatto Che comunque Era andato bene E aveva fatto Il disco d'oro Per cui Io non ritenevo Che fosse una cosa Come posso dire Denigrante Per la mia carriera Fare degli altri Esperimenti del genere Che ho fatto E che Hanno raccolto Parecchi dischi D'oro e di platino Per cui diciamo Che la mia La mia Pur breve Interessante Sperimentare con generi Anche così In detti popolari La mia pur breve Incursione Reggaeton È stata una roba Che mi ha dato Grandi soddisfazioni Gli insulti Che ho preso Capito Che poi Mi sembra una roba Anche ormai Abbastanza sdoganata Sinceramente Cioè adesso Fortunatamente Tutti fanno tutto Nessuno Gli insulti Erano del tipo Ci hai tradito Cioè Giusto Tu dirai tipo Che musica di merda Ma che cazzo fai Ti sei venduto Ti sei venduto Ti qua di là Però poi Negli anni Negli anni Ho capito Che in realtà Quella roba lì Non so come spiegarti È proprio la sofferenza Di quando uno È tanto amato Davvero Perché Di solito Quando uno fa un passaggio Del genere Poi il pubblico Non gliela perdona Invece a me Me l'hanno perdonata Ok Io sono tornato Nel Tipo Fedez Fa cose Con musica anni 50 Con riferimenti Proprio Giro di Do Però credo che Quella roba lì L'abbia inventata lui Quella roba lì Al di là che piaccia O non piaccia Secondo me Quella roba È il futuro Per lo meno Nei prossimi 4-5 anni Della hit estiva Ok Siamo passati Dal reggaeton Alla baciata Reggaeton A una roba Che ha inventato Fedez Secondo me Cioè La musica Pop moderna Che si rifagliano I 60 italiani Quella roba lì Non c'era Ma invece Sono una cifra Invece dal punto di vista Del management Appunto te che Vieni da quando Non esisteva Un mercato Sul prodotto Rap e hip hop Quali sono le cose Che hai visto Cambiar di più E le cose che secondo te Sono sia migliorate Che peggiorate In tutti questi anni Allora La cosa che è migliorata Sicuramente Rispetto a quando Iniziato io Ma rispetto anche A quando io Già facevo le cose Bene È che esistono Le infrastrutture Del rap Ok Esistono tutti Management competenti Bravi organizzatori Di serate Club Che sono disposti A investire Sugli artisti Discografiche Che hanno capito L'importanza Beh più che altro Non ho capito Il guadagno Probabilmente Però hanno capito L'importanza Del rap Per cui Adesso a tutti i livelli Tutti sanno cosa fare Non come prima Che tu facevi il rap E anche se eri il numero uno Ti trattavano come un coglione Perché non arrivavi Dal canonico Mondo Della musica pop italiana Ok Quindi sicuramente È migliorata Questa cosa qua Per quanto riguarda La gestione degli artisti È tutto diverso È sicuramente migliore Da un punto di vista Dell'organizzazione Ma È assolutamente Incomprensibile A un artista Della mia generazione Cioè ormai Se tu vuoi collaborare Con un artista moderno Di adesso Un giovane di oggi Devi avere a che fare Con la discografica Con il manager Pianificare l'uscita Capire se in quel momento Lui non ha delle altre uscite Se ha delle altre uscite Allora non si può Bisogna scegliere cosa Lavorare come singolo È un vero casino Il risultato Che io Ho imparato Sulla mia pelle In questo In questo In questo disco È che io Ho l'unico Vero singolo Che posso lavorare Come un singolone E non ho Il permesso discografico Di lavorarlo Per cui È lì Non posso fare niente Non posso fare il video Non posso fare il promo È là Diciamo che è diventata Più un'industria Solida Con step Se vogliamo Anche similari A alcune produzioni cinematografici Nel senso che Cominci un progetto Sta lì per tanto tempo Ci sono intermediari Diciamo Il momento in cui viene Partorita l'idea E quando tutto viene fuori C'è un percorso gigantesco Al suo interno Immagino sia anche fondamentale Nel tuo caso Delegare a persone Di cui ti fidi tanto Poi non è molto facile Quello sicuramente Però io rimango Rimango Di quella scuola lì Per cui il progetto Rimane quasi totalmente In mano all'artista Come I miei coetanei Cioè Gue, Marra, Fibra Cioè Noi ci facciamo i dischi Noi Ok E poi Insieme Insieme Alle persone Che accompagnano Le nostre carriere Pianifichiamo Quello che va pianificato Penso che si sia Un po' tutto spostato Come nel resto del mondo Man mano che il business Cresceva Questo genere di musica È una cosa che è passata Nella gestione Dico Non nella creazione Cioè Non nel parto creativo Della musica Nella gestione Poi della musica Che la gestione dei dischi Sia passata dagli artisti Ai management Beh con i social È molto migliorata La cosa dell'autopubblicità Però anche lì Poi sulla musica C'è tutto quanto Un discorso Che non può funzionare Che puoi fare le cose Da solo Se devi andare bene Con la musica Devi per forza Poi uscire Dall'autonomia Che puoi avere Solo sui social Credo Ah beh Sicuramente No assolutamente Assolutamente Però io parlo proprio Della gestione fra artisti Cioè una volta Se vuoi collaborare con uno Chiamare Dicevi Oh frate Facciamo il pezzo Sì no Pezzo fatto Pezzo usciva Adesso devi interpellare 13 persone Per cui sicuramente Il metodo di lavoro Per loro Che sono abituati Già E nascono Con questo metodo di lavoro È sicuramente efficiente Per noi Minchia È difficile da capire Ti faccio un'ultima domanda Poi Ti lasciamo andare Poi Ancora Ancora una domanda A loro Da 1 a 10 Se dovessi Quanti Certificare Quanta apparenza C'è Nel mondo Dell'hip hop In termini Di collaborazioni Cioè Non ho capito Quanta facciata Nel senso Quanto Magari Si passi sopra Anche a Poi da una parte Forse anche corretto A dissidi personali Perché in quel momento L'artista funziona E quindi serve Urge fare Un Fit Farecchio Sette Perché ormai Il metodo di lavoro È quello Cioè È fare il featuring Per la classifica Fare il featuring Per lo streaming Ok Poi sai Se uno ti sta Veramente sul cazzo È anche difficile Collaborare Però Diciamo che Nelle motivazioni Nelle motivazioni Secondo me Si è sempre più Spinti Verso un featuring Che Che dia Che dia Una spinta al pezzo Piuttosto che Una vera stima artistica Ecco diciamo Di sicuro Questa cosa Molto cambiata Con gli anni Io ricordo Che ne so Fino a dieci anni fa Forse anche quindici C'erano dei fit Che sembravano quasi Impensabili Cioè questa cosa Non esisteva Lontanamente Ormai è un muro Come stavate a dire Che è completamente Crollato Sì Ma poi si è capito Che anche comunque Tutte queste Scazzi fra artisti Eccetera eccetera All'inizio Quando sono degli scazzi Generano Streaming Interesse Chiacchierio No? Il famoso Bene o male Basta che se ne parli Ma Poi si è scoperto Che in realtà Poi quando si fa la pace Si genera ancora di più Per cui Spesso e volentieri È tutta Bufonata Per cui si litiga Si fanno soldi Poi si fa la pace Si fanno ancora più soldi Per cui È tutto lì E torniamo Al discorso Prima degli ether Così gli ether Poi sotto Possono scrivere Ipocriti Ma infatti La gente Cazzo È innamorata Ovviamente Ma come giusto che sia È innamorata Di questa visione No? Un po' poetica Un po' eroica Del musicista Minchia in realtà Siamo molto peggio Di quello che Penso la gente Molto Io ho tre domande Una dalla chat Che si chiede Cosa c'è a destra E continui a guardare a destra Come se ci fosse A destra A destra c'è un acquario C'è un acquario Che fa un casino Della madonna E quindi Ogni tanto Mi distrae E mi giro Ok Eriamo Preoccupati Certi pensavano Che c'era uno Che minacciava Non lo so Perché La chat va di fantasia Io pensavo serpenti Poi Le altre due domande Ne ho una musicale Una non Quella non Hai mai fatto il test Delle 16 personalità No Dovresti farlo Perché è una cosa Molto interessante Stiamo censendo Tutti i personaggi pubblici Che vengono Qui al chat E la domanda Invece musicale È questa Se c'è Se puoi trovare Una parola Che descriva Un'emozione Che faccia Da filo conduttore Per quest'album Cioè Se dovesse Se dovesse essere Un'emozione Inquietudine Ci sta Pure per l'atmosfera Dark Che dicevi Ma tu Sei inquieto? Assolutamente Io sono inquieto Da sempre Da Da sempre Non sono mai sereno Qual è la cosa Che ti spaventa di più? Un conto è inquieto Un conto è inquietato Sì infatti Ora Non voglio fare Non voglio fare Il fenomeno E non voglio fare Neanche il duro Ma La cosa che mi spaventa Di più È anche L'unica Cosa che mi spaventa Ed è La sofferenza E la morte Delle persone A cui voglio bene Per il resto Non me ne frega Un cazzo di niente E Mi ritengo fortunato Per questa cosa Però L'unica cosa Che non posso controllare È che so che mi farebbe male È la sofferenza Le persone A cui voglio bene E quindi Quello mi fa Paura Ci sta C'è un'altra domanda Interessante Della chat Che avevo letto Se c'erano E se esistono Degli artisti Che ti hanno ispirato Quando hai deciso Di fare musica Da giovane Cioè se c'è qualcuno Che ti ha ispirato Ne sono parecchi Quello che mi ha ispirato Di più È Notorious B.I.G Che infatti Eccolo qua Ok Top E Quando io Mio zio Mi ha regalato Il CD Di Ready to die Io ero già Grande amante della musica Ma non ci pensavo In quei termini Quando io ho sentito Ready to die Sono stato Veramente Folgorato E ho detto Io voglio fare Ok Infatti Nel tattoo C'è scrittore Di to die Perché quello È stato il momento Proprio Dico Grazie Io c'è un'altra domanda Molto importante Qual è la parte Del corpo femminile Che ti piace di più Il culo Ok Concordo Io pure Marco pure Ti in culo Non si montano Culo e tette Per un bel culo Sono disposto A rinunciare Ad altre parti Ok Ok Ci sta Ci sta Guarda noi Ti ringraziamo tanto È stato un piacere Grazie a voi raga Grazie E poi Questo è il nuovo media Non conta più Fare i media tradizionali Conta venire a fare ste robe Meno male Meno male Magari c'è casca Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi raga Grazie a te Ascoltate l'album Link in chat Ciao Ciao a tutti Ciao Ciao grazie ancora Che scuoli State arrivà Ello Croccia Così proprio No no Vabbè vabbè Dai Stai un po' Una sfattonata Comunque Un po' De Emotion C'è stava Ma come fai Come fai Cioè io se ho fatto Quelle cazzate Che ho rimesso online Le ho fatte Anche per quest'uomo Cioè io mi ascoltavo Loro Quando ero ragazzino Dico io Io ho messo subito Le mani avanti La prima cosa che ho detto Però Ho notato che In generale Li capisco Gli artisti Non amano molto Magari parlare Anche di Formazioni precedenti Eccetera Quindi ho evitato Domande su Sacre scuole Club Dogo Esatto Sì Ma pure Fa quelle domande Lì che la chat Chiedeva Cioè noi leggiamo La chat Però faccia Che poi ne parlavamo Per appunto Prima che iniziasse La live Ci stanno domande Che non vogliamo fa Sicuramente Le classiche domande Che già gli faranno Altri miliardi Di persone Per il nostro stile Vi tornerete insieme Lascio parlare voi Non so Cosa ne pensate Delle domande Più gettonate Oppure quelle Sui beef beceri Oppure che ne so Ok Perché li ti chiedo Que Ma sì Alla fine Cioè capisco Quelle domande Anche perché Spesso servono No vabbè Sono una Ovviamente Spesso servono Alcune testate Per fare il titolo No chiaramente Cioè tu fai un'intervista Magari pure interessante Però devi mettere Quelle due tre domande Jake parla di Sfera Parla di Fede Se no ovviamente A noi alla fine Ce ne frega un cazzo Perché non siamo Una testata musicale Sì Però diranno quelle cose Sì 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 Ma ci sta la curiosità Per l'amor di Dio Però Non è la nostra Penso Cioè almeno a noi No io parlo In questo caso Io parlo in questo caso Perché se c'era Un'altra persona X Io dipende Per quanto riguarda me Con lui Domande di questo tipo Proprio zero Ma sì Anche perché poi Quando c'è proprio Rispetto massimo No Se ve ospite Persona X Ma certo Più che altro Penso ci sia Altro Ho notato Che spesso Si indispettiscono Pure Magari si chiudono O ti rispondono Forzatamente Quindi è anche inutile Alla fine stare lì Un conto è un giornalista Di inchiesta Che deve Estorciare una domanda Perché è interessante Ma nel mio caso Giusto se puoi usci fuori Una cosa che fa ride No Sì 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 È capitato Magari non mi viene in mente Ma conoscendomi È sicuramente capitato Sì Ecco forse Viene ospite lui Viene ospite Dargen Viene ospite Persona X Ah il discorso Cambia completamente Sì E forse quella Su Mucchio Selvaggio La potevo fare Quando ho citato Metal Carter Però mi sono scordato Tra l'altro Eh Ci manca solo Ci manca solo Quei adesso Barra No dico Della formazione Delle Sacre Ah vabbè Don Sì Don Joe Però è entrato dopo Club Dog Sì sì Quindi Urge 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 Lui sta a Lugano Capace che in qualche modo Riesca a beccarlo Prima o poi Lo rapisci Io non so perché C'è un mar di gola Secondo me Sono stelle condizionate Sai Perché ho l'aria condizionata Tutto il giorno Pure a casa È vero Marra intervista Marra Farebbe ride Marra al quadrato Farebbe ride Va bene Ragazzi Ci vediamo domani Ci vediamo domani Alle quindici Grazie a tutti È stato bello Ciao ragazzi Ciao Ciao Che squali Stati arrivà E' l'ho Crociato In questa nuova Ascensione Stai pure registrando Stai pure registrando